A 74 anni dalla liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, l'orrore indicibile che si spalancò davanti agli occhi dei testimoni ci interroga e ci sgomenta ancora oggi. Mentre con queste parole il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha aperto stamani il suo discorso al Quirinale in occasione della cerimonia per celebrare la giornata della memoria, anche a Salerno in Prefettura si è svolta la cerimonia commemorativa in ricordo dello sterminio del popolo ebraico e dei deportati. La giornata della memoria, organizzata dalla Prefettura di Salerno in collaborazione con il Comitato di Salerno della società Dante Alighieri, si è aperta con la recitazione di alcuni brani degli studenti dell'Istituto dei Filippi Sgaldi di Cava dei Tierreni, l'intonazione dell'inno di Mameli. A prendere la parola è stato il Prefetto di Salerno Francesco Russo, che rivolgendosi soprattutto ai giovani ha sottolineato quanto gli eventi di Auschwitz abbiano caratterizzato la discriminazione e l'intolleranza. Ciò che colpisce, ha detto, è la deumanizzazione della quale gli ebrei e non solo furono vittime, ma oggi questi fatti devono portarci a reagire alle ingiustizie. La lezione della Shoah deve essere quella di praticare l'inclusione. L'evento nel Salone Azzurro della Prefettura di Salerno è stato caratterizzato dalla consegna delle medaglie d'onore conferite dal Presidente della Repubblica. Sette i cittadini della provincia di Salerno rinchiusi nel lager nazisti, insigniti dell'importante riconoscimento. L'unico ancora in vita, Felice Magliano, di 105 anni, di San Giovanni Appiro, che stamani per la distanza dal suo comune non era presente, ma per lui ha ritirato la medaglia e il nipote Sandro Paladino. E' un po' lo spartiacco quello del 27 gennaio, non l'arrivo delle truppe sovietiche ad Auschwitz praticamente, quindi il ricordo, da lì parte tutto, da lì si è scoperto tutto, qualcosa già si sapeva evidentemente, ma da lì si è scoperto in maniera drammatica praticamente tutto quello che è accaduto. Per cui veramente questo, da allora noi dobbiamo rafforzare sempre di più il passaggio alle generazioni, di generazione in generazione. Non possiamo dimenticarlo, perché dimenticarlo o essere indifferenti rispetto a questo presenta dei pericoli che non ci possiamo mai permettere. Quella di oggi è anche l'occasione per assegnare delle medaglie ad alcuni cittadini della provincia di Salerno, alcuni non ci sono più, ma uno è ancora vivente. Sì, sì, uno è ancora vivente, purtroppo oggi non sarà presente. Vedremo se riusciamo di incontrarlo più avanti, perché veramente è una testimonianza importantissima. Se anche questo, anche queste medaglie che qualche anno fa appunto il nostro Stato, il nostro Governo ha voluto che fossero date a questi cittadini che comunque erano stati sottoposti al lavoro coatto o che avevano sofferto nei campi di concentramento, è un modo anche forte di ricordo praticamente. Ricordo per loro, per quei pochi ancora che sono vivi, ma anche per i loro familiari, perché anche questo significa coltivare la memoria. Non dimenticare mai coloro i quali hanno sofferto. Cioè ci sono generazioni precedenti alle nostre, di cui noi abbiamo ancora qualche, che tutti noi abbiamo avuto attraverso le nostre nonne o i nostri nonni soprattutto, che hanno sofferto delle cose terribili anche nonostante in campo di concentramento, anche vivendo solo il momento della guerra. Ecco, la memoria, il coinvolgimento, le emozioni, tutto questo deve servire appunto a fare in modo che queste cose non accadano più.